Diventare fiorista europeo adesso si può con un percorso formativo in città. Avviato il percorso formativo e intensivo, curato da Federfiori, la federazione nazionale dei fioristi aderente a ConfCommercio, che consentirà a un gruppo di giovani imprenditori dell'arte floreale di ottenere il diploma di fiorista europeo attraverso una formazione d'eccellenza. Formazione che rappresenta uno dei punti cardine nel protocollo d'intesa siglato pochi mesi fa da Federfiori ConfCommercio Siracusa con il comune Aredoseo nell'ambito di un progetto di riqualificazione dello storico Roseto di Villa Raiman. Il progetto prevede anche la catalogazione delle specie botaniche presenti nei giardini della villa in via Necropoli Grotticella. Ad aprire il corso biennale sono stati Rosario Alfino, presidente nazionale di Federfiori, insieme a Giuseppe Palazzolo e Oreste Annino, rispettivamente presidente e vicepresidente di Federfiori Siracusa. A condurre il percorso formativo sarà Fabrizio Panone, sesto classificato alla Coppa Europa 2022.